Celebriamo dunque l'amore, quell'amore che ci precede e che ci riempie il cuore, che viene dal Signore. Un amore di quello che non scherza, non cose sdolcinate, ma un amore che sa tradursi in vita donata. Un amore terribilmente vero, che ha a che fare con la croce, anche se tante volte non vorremmo che avesse a che fare con la croce l'amore. Ma l'amore è così, viene dalla croce. Ce l'ha detto il Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Lui stesso, che avrebbe potuto fuggire alla morte come avrebbe voluto e quando avrebbe voluto, lui stesso dà la vita per amore. Lui, il Signore della vita, si lascia inchiodare sulla croce, si fa servo, ultimo, piccolo. Ecco perché Gesù è il Signore, ecco perché Gesù è il più grande, perché si è fatto il più piccolo. Lui, il Signore della vita, si fa servo, ultimo, piccolo. Vivete sempre mano nella mano, nella gioia e soprattutto nella fatica. Non lasciatevi mai la mano. Il Signore sarà sempre con voi, ve lo ha garantito, ce lo dice ogni giorno. Io sono con voi sempre. Tanti auguri, cari Arianna e Nicolò, buon cammino.